Frosinone-Atalanta termina con la vittoria del Frosinone sull'Atalanta. 2 a 1. Il Frosinone mi ricordo che ha giocato in casa, l'Atalanta fuori casa. I bergamaschi cedono ai colpi ben assestati di un Frosinone in ottima forma fisica, forma smaiante a zandatire, che riesce a cogliare i beri e a trovare la relativa vittoria. Lo stadio è quello chiamato Benito-Stirpe di Frosinone e la partita è quella del 26 agosto 2023. La segnata di Frosinone è stata a Rui e Monterisi. Gli entrambi gol arrivano nel primo tempo, va bene, primo tempo regolamentare. Per quanto riguarda invece l'Atalanta, il gol arriva nel secondo tempo a firma di Zapata, che riesce a metterla dentro in una maniera veramente mirabile. Eppure questo gol non basta a far sì che l'Atalanta vinca la partita in questione. Le statistiche vi ricordo che sono tutte a favore del Frosinone, quindi sulla carta. Nel risultato il Frosinone vince e nelle statistiche anche viene premiato. Infatti sono tutte positive. l'Atalanta gioca in maniera abbastanza spinta, non in maniera molto aperta, accesa. Giungendo infatti ad un solo cuore e basta. Segno evidente forse di una stanchezza pregressa oppure che effettivamente parlando si è manifestata nel corso del match in questione. Vi ringrazio per l'ascolto e il video termina qua. Iscrivetevi al canale narratore italiano commentari. Un caro saluto a voi e al prossimo video. Grazie a tutti.